Se non si sanno vivere le umiliazioni non si è umili, una regola d'oro che Papa Francesco indica nell'omilia della Messa Santa Marta, prendendo spunto dalla figura di Davide al centro della prima lettura di oggi. Umiliato con la sconfitta, la fuga ed anche con l'insulto, Davide che a piedi scalze e col capo coperto sale l'erta degli olivi, ci porta a riflettere su alcuni nostri atteggiamenti. Dalle volte che noi pensiamo che l'umiltà è andare tranquilli, andare forse a testa bassa guardando il pavimento, ma anche i maiali camminano a testa bassa, questa non è umiltà. Questa è quell'umiltà finta, preta portè, che non salva né custodisce il cuore. E alla tentazione di lottare contro chi ci calunnia, ci umilia, ci fa vergognare, Francesco ricorda la strada tracciata da Gesù, portare le umiliazioni e trasformarle in speranza. E' buono che noi pensiamo questo, non c'è vera umiltà senza umiliazioni. E se tu non sei capace di tollerare, di portare sulle spalle un'umiliazione, tu non sei umile. Fai finta, ma non sei.